oggi voglio parlarti di contenuti ho sempre avuto l'ambizione di conoscere gente di successo gente che ce l'avesse fatta proprio per sapere quelle sono state quelle cose che hanno fatto la differenza per farcela quindi per capire i passi da fare farmi dare dei consigli ed era molto brutto trovarsi poi di fronte a loro senza sapere cosa dire cioè facendo quella classica scena muta più una persona è importante più dà valore al proprio tempo quindi quando te li trovi di fronte devi avere sempre qualcosa di interessante da dire velocemente per attirare la loro attenzione online è uguale bisogna allenare la comunicazione ogni mattina che ti alzi dal letto deve avere bene in testa cosa dire al tuo pubblico è la prima cosa che un imprenditore deve pensare mentre si avvia che va al gabinetto cosa posso dire oggi per migliorare la vita del mio pubblico per aiutare i miei clienti come posso migliorare la loro giornata oggi ogni singolo giorno bisogna ripetere questa procedura ed è tremendamente difficile farlo tutti i giorni ma come è volto ogni mattina si alza e va allenarsi e va a correre un imprenditore ogni mattina oltre ad andare in azienda deve allenarsi a comunicare deve allenarsi a migliorare la giornata al loro pubblico vedesi i clienti è un estenuante lavoro di ricerca di contenuti ma che sul lungo termine porta un sacco di risultati perché le persone poi prendono fiducia iniziano a seguirti tutti noi abbiamo qualcuno da seguire qualcuno da imitare qualcuno da prendere come riferimento per una determinata cosa nessuno è escluso neanche quelli che dicono che non seguono nessuno non è vero ognuno di noi ha dei riferimenti ora torna a scrivere ricorda che devi avere qualcosa da dire al tuo pubblico sempre tutti i giorni ciao 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 ciao